Whatsapp lancia la versione business. ANSA, Roma, 18 gennaio Whatsapp entra in ufficio. La chat è di messaggistica di proprietà di Facebook, che conta oltre 1,3 miliardi di utenti. Si sdoppia in una versione business, dedicata a piccole aziende e attività professionali. Whatsapp Business aggiunge funzioni a quelle della app normale, tra cui rispondere ai clienti e separare i messaggi personali da quelli di lavoro. La app disponibile da oggi per utenti Android in Italia, Regno Unito, USA, Indonesia e Messico. A breve atteso il lancio su iPhone e in altri paesi.